Spero che Marco Tosatti voglia ospitare questo mio intervento in risposta all'ennesimo, ripetitivo e trollizzante articolo di Don Tullio Rotondo intitolato Benedetto celebrava con Francesco che Papa non era in sede impedita Don Tullio Rotondo parla di affermazioni false e diffamatorie che io farei nei suoi confronti lui che dà ne dice che sono ignorante, incompetente, che spargo cose false, eresie, che sono scismatico e che inganno la gente Cristo regna, avete sentito quello che dice il Dottor Cionci? Io rispondo subito, Dottor Cionci veda, io tutto quello che dico l'ho provato, ho dato prove chiare per affermare che lei è scismatico, per affermare che lei dice falsità e per affermare che lei praticamente diffonde appunto delle affermazioni che sono praticamente ereticali l'ho provato chiaramente, quindi non sono io che la diffamo realmente, è lei che con i suoi stessi errori è lei che con i suoi stessi errori si diffama, non sono io che la diffamo, è lei che si diffama con i suoi stessi errori, quindi il problema non sono io, è lei, ed è lei che diffama me dicendo che io la diffamo perché io non la diffamo proprio, la diffamazione è un reato, peraltro un reato, quindi non è nella mia linea stia tranquillo, quello che dico è fondato fondamentalmente nella sana dottrina quindi quello che dico non è diffamatorio nei suoi confronti, dice la pura verità e lei non dico cose che nessuno sa, dico cose che la gente può vedere sul suo canale che sono pubbliche quindi essenzialmente è lei appunto che mi diffama, non io, perché lei fa delle affermazioni nei miei confronti che sono radicalmente false anche in questo caso grazie a tutti Grazie a tutti.